E' stata la grande notte della SBA che ha fatto suo il derby con il costone nel posticipo di campionato al termine di una partita vibrante combattuta punto a punto. Una partita che ha tenuto con il fiato sospeso e che al suono della sirena ha fatto esplodere di entusiasmo il pala estra d'Agata e pensare che nella prima parte la formazione ospite aveva chiuso in vantaggio con 10 punti 36-46. La mira dei giocatori senesi unita ad una micidiale precisione avevano fatto la differenza. I fratelli Paoli spaziavano da padroni e per il quintetto di coach Fioravanti era necessario serrare le fila per poter tentare l'impresa nella seconda frazione di gioco dove era impossibile che gli ospiti potessero tenere quel ritmo e confermassero soprattutto la precisione al tiro dimostrata. E così nella seconda frazione è salito in cattedra l'argentino Toia e di colpo la SBA ha cambiato marcia. Sono cresciuti Buzzone, 17 punti per lui alla fine. Lemmi e Prega hanno fatto il lavoro sporco mentre il crack è stato Bischetti, autore di penetrazioni letali per la linea difensiva del costone. Nel momento topico, a pochi secondi dalla conclusione, anche una stoppata di cadere è stata decisiva e la fide alla gioia degli Amaranto è stata incontenibile. Un successo che lancia la SBA con 6 punti a ridosso delle prime e di grande auspicio per la partita di domenica sera contro la Virtus dell'ex coach evangelisti.